Artefice del proprio destino in chiave playoff? Non più. La Beffarda sconfitta di Picerno ha lasciato invariato per il Cerniola il margine di ritardo dal decimo posto, l'ultimo utile per accedere agli spareggi per la Serie B, ma ha cambiato le carte in tavola negli equilibri del campionato per gli Ofantini, che ora non possono più vantare il destino tra le proprie mani. Questa è la classifica quando mancano tre giornate al termine della stagione regolare, giallo-blu a meno uno dalla zona playoff e dalla coppia composta da Sorrento e Foggia. I rossoneri saranno avversari del Cerniola alla penultima giornata nel derby in programma allo Zaccheria. Per poter contare solo e soltanto sulle proprie forze, dunque la squadra di Giuseppe Raffaele deve sperare in un passo falso anche mezzo del Sorrento, che domani alle 16.15 aprirà il programma della 36esima giornata giocando al Fanuzzi contro il Brindisi già matematicamente retrocesso in Serie D. Domenica sera invece toccherà al Cerniola, che scenderà in campo per sfidare la Virtus Francavilla, fischio di inizio al Monterisi previsto alle 20.45, già conoscendo sia il risultato dei costieri campani che quello del Foggia, impegnato invece sempre domani, ma alle 18.30, al Viviani contro il Potenza. In questo finale di stagione, inutile nasconderlo, le attenzioni degli Ofantini saranno rivolte giocoforza sui più campi. Il principale tuttavia resta il proprio campo, non un fortino inespugnabile per gli avversari, come è accaduto nel recente passato. Dei 44 punti attuali in classifica, il Cerniola ne ha conquistati davanti al proprio pubblico 24 sui 51 a disposizione, meno della metà dunque, determinanti saranno le prossime due casalinghe, domenica contro una Virtus rigenerata dalla vittoria di Crotone e in piena bagarra per la conquista della salvezza, e poi all'ultima giornata contro il Giuliano, perché nonostante le mille difficoltà e i mille infortuni, nonostante un rendimento stagionale con più bassi che alti, il Cerniola ai playoff vuole andarci.